Richiede una lotta. Il Vangelo ci mostra infatti il coraggio di Maria che ha detto sì a Dio che ha scelto il rischio di Dio. E il brano della Genesi a proposito del peccato originale ci parla di una lotta contro il tentatore e le sue tentazioni. Ma anche per esperienza lo sappiamo. Tutti noi costa fatica scegliere il bene. Costa. Costa fatica custodire il bene che è in noi. Pensiamo quante volte l'abbiamo scioppato cedendo alle russinghe del male facendo il sorpo per i nostri interessi o facendo qualcosa che ci avrebbe inquinato il cuore. O anche buttando via tempo le cose inutili e le annosse rimandando la bandiera e cercare la lotta c'è sorella e soprattutto madre. E noi che facciamo fatica scegliere il bene possiamo affidare la stagione. Affidandoci la stagione della donna e diciamo tienimi per mano, madre. Guidami tu. Con te avrò più forza nella lotta contro il male con te lo sfidò la mia donna e la mia donna e la mia donna. Affidiamoci a Maria oggi. Affidiamoci a Maria ogni giorno ripetendo di Maria ti affido la mia vita. Ti affido la mia famiglia. A mia donna è una donna e la mia donna e la mia donna. Vi saluto di Maria che non è una donna e la mia donna. per passare a me e di sincronse, la risoluzione di gloria per l'educato. Per questo nome è un orto. Amen. Gloria a Patria e Filho e Spirito e Santo. Sì, poter a dire vincitio e lucre sempre, ed in secolo a secolo a ormai. Gloria a Patria e Filho e Spirito e Santo. Sì, poter a dire vincitio e lucre sempre, ed in secolo a secolo a ormai. Gloria a Patria e Filho e Spirito e Santo. Sì, poter a dire vincitio e lucre sempre, ed in secolo a secolo a ormai. Gloria a Patria e Filho e Spirito e Santo. Grazie a tutti e a tutti e a tutti i nostri ammai. Meraviguita a tutti i nostri ammai. Grazie a tutti i nostri amm. Vincitri a tutti i nostri amm. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, romani e pellegrini. In particolare saluto gli aderenti al Movimento Cristiano Lavoratori e la rappresentanza di Rocca di Pappa con la fiaccola che accenderà la stella di Natale posta in cima alla cittadina. Nella festa di Maria Immacolata l'azione cattolica italiana vive il rinomo dell'adesione. Rivolgo il mio pensiero alle sue associazioni più cesane e parrocchiale incoraggiando tutti ad andare avanti con gioia al servizio dell'Angelo e della Chiesa. Oggi pomeriggio mi reggerò a Santa Maria Maggiore a pregare la Salus Popole Romano e subito a Piazza di Spagna per compiere il tradizionale reato di omaggio e di preghiera ai piedi del Movimento Immacolata. Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo gesto che esprime la devozione filiale alla nostra madre alla cui intercessione affidiamo il desiderio universale di pace, in particolare per la martoriata ucraina che soffre tanto. Penso alle parole dell'Angelo e della Vergine, nulla è impossibile a Dio. Con l'aiuto di Dio la pace è possibile, il disarmo è possibile, ma Dio vuole la nostra volontà. C'è anche la volontà di convertirci di sé in Dio. Buona festa, buon cammino di avvento e per favore non dimenticatevi. di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Buon cammino di 2 giorni. Buon cammino di 4 giorni. Buon cammino di 3 giorni. Grazie a tutti.